Buongiorno ai nostri amici, oggi mi trovo a Milano e mi trovo in compagnia di due economisti, Nino Galloni, conosciutissimo economista, e Nando Ioppolo, economista ed avvocato. Che cosa faremo? Insieme a questi due economisti parleremo della situazione attuale dell'Italia, cioè che cosa sta succedendo e perché sta succedendo, e non solamente in Italia, ma anche in altri paesi europei. Buona sovranità a tutti! Allora, ci troviamo in una fase, in un periodo molto particolare per la storia di questo nostro paese, cioè dell'Italia, ma anche in Europa, anche in alcuni paesi d'Europa si sta vivendo un po' una situazione particolare, pensiamo ad esempio a Cipro, pensiamo alla Grecia. Che cosa sta succedendo? Che cosa ha portato a questa situazione e soprattutto come possiamo uscirne? Io credo che la situazione cipriota abbia risolto, oltre ogni ragionevole dubbio, un quesito fondamentale. Perché? Andare ad attaccare i depositi, fare del terrorismo sociale sui depositi bancari, significa cercare caos, non la soluzione. Ora stiamo parlando nel caso di Cipro di poco più di 10 miliardi di euro, così come nel caso della Grecia si parlava nel totale di circa poco più di 300 miliardi. Non ci dimentichiamo che nell'incertezza di quello che si dovesse fare o non fare in Grecia si sono persi 2.800 miliardi nelle borse europee, quindi oltre nove volte il debito greco. Per cui tutto quello che sta succedendo non ha una sua razionalità. Per esempio quando si parla di default per quanto attiene al debito pubblico italiano, si dice un'immane sciocchezza, perché il patrimonio finanziario e immobiliare delle famiglie e dello Stato supera i 9 mila miliardi di euro. E se poi andiamo a considerare quelle che sono le ricchezze demaniali e di altro genere, per dire adesso i beni artistici e culturali di questo Paese, questo debito pubblico è veramente una piccola cosa. Il debito, ricordiamo, è uno stock e viene paragonato al PIL che invece è il flusso annuale del reddito netto. Quindi in buona sostanza è un parametro quello del rapporto fra debito e PIL, ma non può essere preso come una grande verità con una grande significatività. Per convenzione si tiene a parametro di riferimento dei vari Paesi. Però vorrei sottolineare il fatto che mentre nel caso dell'Italia questo 126% a cui siamo arrivati grazie alle politiche scriteriate della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro durante gli anni 80 che fecero crescere in modo assurdo il tasso di interesse e quindi provocarono il raddoppio del debito stesso, noi abbiamo che tutto l'indebitamento delle pubbliche amministrazioni centrali, periferiche e della Previdenza nel caso italiano ricade lì dentro. Mentre invece per esempio i virtuosi tedeschi hanno tre debiti pubblici, quello dei lander che non entra dentro il computo, quello della Previdenza che non entra dentro il computo e invece il solo debito statale che ci rientra. Quindi a che gioco giochiamo? Quindi in realtà ci sono anche degli artifici contabili? Assolutamente, la Germania ha una banca pubblica che riceve mezzi monetari teoricamente illimitati dalla BCE allo 0,75% e poi li può investire al 2% per comprare debito pubblico e mantenerlo al 2%. Quindi la differenza principale tra il meccanismo tedesco, dicevi banca centrale, che funziona in maniera diversa rispetto a quella italiana, vogliamo spiegare un po' No, non è la banca centrale, è la banca pubblica. La banca pubblica, vogliamo spiegare le principali differenze tra l'italiano e quello tedesco? Allora, tutti i sistemi a un certo punto hanno definito un principio fondamentale che era quello della netta separazione o divorzio fra la banca centrale nazionale e il governo, il Ministero del Tesoro. Con la piccola differenza, se guardiamo soprattutto all'Italia e all'Inghilterra, che quest'ultima, quando c'era bisogno, tradiva il divorzio ed emetteva sterline per andare incontro alle esigenze del Tesoro, il quale così poteva emettere i titoli che gli servivano per finanziarsi sempre a bassi tassi di interesse. Per cui se l'asta non andava completata, la completava la banca d'Inghilterra. Teoricamente non era costretta a farlo, ma poi lo faceva per buon senso. Quello che invece da noi, dopo il 1981-82-83, con l'accordo Ciampi-Andreatta, non viene più fatto. Il problema non è il divorzio in quanto tale, ma il fatto che si praticasse in modo indiscriminato. Quando viene introdotta la Banca Centrale Europea e quindi le banche nazionali centrali perdono di competenza, il principio fondamentale è che la BCE non possa finanziare gli Stati. Le banche centrali non possono più, ma neanche la BCE può andare a colmare i disavanzi pubblici. In realtà, sempre nel Trattato di Lisbona, che è il regime nel quale ci troviamo, c'è una clausola, è il secondo comma dell'articolo 123, che prevede una eccezione, nel senso, noi come italiani li vediamo come un'eccezione, in realtà non è un'eccezione. Il Trattato dice che la BCE può fornire mezzi monetari esclusivamente alle banche. Ora, da noi le banche sono tutte private, quindi non c'è confusione. Invece, questo secondo comma dell'articolo 123 ricorda che la BCE può finanziare anche le banche pubbliche, a certe condizioni, che adesso sarebbe un dettaglio tecnico ricordare. Quindi, la differenza fondamentale fra il sistema tedesco e il sistema italiano, che, mentre la banca centrale tedesca ha le stesse prerogative della Banca d'Italia, invece i tedeschi hanno una banca pubblica, che è un'altra cosa, la quale può ricevere mezzi monetari dalla BCE e fondamentalmente farci quello che gli pare. L'importante è che dia la garanzia alla BCE, che restituisce il capitale, e lo 0,75 di interesse. Ma se li investe all'1,25%, può consentire al tesoro tedesco di emettere titoli per finanziarsi all'1,25. Mentre noi, non avendo la banca pubblica, siamo costretti a ricorrere alle aste marginali, soprattutto per i titoli sottoposti poi a spread, che sarebbero i titoli decennali, i buoni dettesori decennali, e quindi rischiamo ogni volta di vedere un aumento dei tassi di interesse se si dice in giro o Dio c'è il default o Dio c'è il debito. Ovviamente questo sottrae risorse agli investimenti, al welfare state, alle attività produttive e al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici. E il sistema italiano si indebolisce. Allora, però vorrei capire, lei ha detto che con Andreatta e Ciampi l'Italia prende una strada diversa. Qual è la motivazione per la quale con Andreatta e Ciampi prende questa direzione? Allora, la motivazione ufficiale fu, era la questione morale, e in questo avevano alleato il Partito Comunista e Enrico Berlinguer. Cioè, bisognava sottrarre ad una classe politica, corrotta e clientelare, quella democristiana e socialista, il potere di decidere gli investimenti pubblici. Questo è il punto, diciamo, cruciale. Dietro queste buone intenzioni, di cui poi saranno nastricate, come sappiamo, le vie dell'inferno, si nasconde una accordata di speculatori che sanno che il punto d'arrivo sarà la svendita, a volte addirittura a prezzi di magazzino, delle imprese a partecipazione statale, le quali erano leader mondiali in alcuni settori, erano il nostro fiore all'occhiello, erano industrie sane e piene di profitti, ma vengono svendute in nome di questa moralizzazione. Ma quindi questa questione morale è stata usata un po' come il cavallo di Troia, insomma. Assolutamente sì. Quindi non era la motivazione reale, fu un espediente da dare in pasto. Fu un espediente, o meglio, a seconda dei punti di vista, c'era gente anche in buona fede, io non posso mettere in dubbio la buona fede di coloro che hanno deciso quelle manovre, però la conseguenza della loro azione è stata che il mio maestro Federico Caffè diceva qui buttano via il bambino con l'acqua sporca. In effetti io oggi posso dire che hanno buttato via il bambino e si sono tenuti l'acqua sporca. Cioè la questione morale ha fallito, ma abbiamo buttato via le capacità competitive, produttive e industriali di questo paese. Ma in quel periodo nessuna voce si levò contro questa politica, oppure non fu ascoltato? Non si poteva prevedere che sarebbe accaduto quello che poi è accaduto? Ci furono varie voci negli anni Ottanta e chiamiamoli quelli che erano non tanto gli euro scettici quanto gli euro moderati. Già c'era stata l'esperienza del precedente governatore della Banca d'Italia, Paolo Baffi, poi c'erano le posizioni di Federico Caffè, anche Craxi faceva parte di questa accordata e in precedenza bisogna citare pure Aldo Moro. Quindi tutte queste persone che non erano, come dire, euro esasperati come Ciampi, come Andreatta hanno fatto una brutta fine sostanzialmente. Questo ci deve far interrogare. E infine nell'89 Andreotti all'inizio dell'anno era su posizioni abbastanza euro moderate, euro scettiche, tant'è che era contrario inizialmente alla riunificazione della Germania e quindi all'abbandono del Marco e quindi all'accordo fra Mitterrand e Cole, ma poi alla fine di quell'anno cambia completamente posizione, diventa euro estremista, viene lodato da Guido Carli, in questo senso che nelle sue memorie ricorda anche lui questo passaggio, ovviamente Guido Carli stava da un lato della barricata e io da un lato completamente opposto. Ormai avevamo perso il nostro riferimento più importante, cioè Federico Caffè e l'armata keynesiana era lo spanto totale. Uno dei light motive è che il debito pubblico è troppo pesante, è sempre eccessivo. Io ricordo che era eccessivo anche quando era un quarto di quello che è oggi e sarà eccessivo anche quando sarà quattro volte quello attuale. Allora il problema è che manca in realtà una teoria della eccessività. Questo manca, perché il problema vero è il peso del debito pubblico. Con un'inflazione del 2% un tasso di interesse inferiore al 2% vuol dire automaticamente peso zero sull'erario, nel senso che il rendimento netto è nullo. Con lo 0,75 che la Banca Centrale Europea presta e un'inflazione del 2% sta già regalando l'1,25% alle banche. E c'è di peggio. Noi abbiamo circa 2 mila miliardi di debito pubblico. Lo 0,75 fa 15 miliardi. Mentre attualmente il peso del debito pubblico sulla collettività è di ben 87 e passa miliardi. Se noi togliamo da 87 miliardi 15 miliardi, risparmiamo 72 miliardi. E non sono noccioline 72 miliardi. Il problema qual è? Che con rendimenti netti sotto lo 0 o pari a 0, qualunque sia il rapporto debito-pill, il peso sulla collettività è 0. Con un tasso di interesse netto, negativo, cioè inferiore all'inflazione effettiva, in realtà hai un rimborso graduale per semplice decorso del tempo del peso effettivo del debito pregresso. Al 2% di inflazione, che non è il 2 perché circa il 3 passa, comunque ammettiamo anche che sia il 2, abbiamo l'1,25, cioè praticamente abbiamo 25 miliardi all'anno di contrazione del debito pregresso. Ma ripeto, il problema quindi è il peso. Quando si dice abbiamo un rapporto debito-pill eccessivo, si dice una bugia. Il problema non è questo, il problema è quanto pesa questo debito. Per cui il problema è quanto deve essere il saggio di interesse sui BTP. Chi lo decide e perché. Se noi attribuiamo la possibilità di fare fissare il tasso di interesse ai mercati speculativi, ci suscitiamo da soli. Non ha nessun senso compiuto. Il tasso di interesse non deve essere lasciato al mercato. Anche perché a quel punto, se lo lasciamo al mercato, e sono mercati speculativi, esistono operatori che hanno una forza finanziaria tale da poter scommettere con facilità contro i debiti sovrani. E poiché il nostro saggio di interesse sui mercati finanziari è dettato dal saggio di interesse più quell'X% che consente di stipulare un'assicurazione contro il default italiano, secondo i cosiddetti CDS, Credit Default Swap. Cosa accade? Accade che scommettendo sui CDS aumenta questa percentuale. E la cosa più tragica di tutte, questa è la cartina al tornasolo della questione, è che nessun acquirente internazionale di BTP compra CDS per assicurarsi sul fallimento italiano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non c'è nessun motivo dello spread, dal punto di vista teorico. Perché basterebbe costringere chi vuole lo sconto sul BTP di comprare un CDS e automaticamente il problema sarebbe risolto. È un po' complicata la questione. Sì, ma io quando ho imparato nella vita, probabilmente è giusto, forse è sbagliato, ma è comunque qualcosa che uso nei momenti in cui veramente voglio capire qualcosa. Cioè quando la cosa è troppo complessa vediamo di partire dall'origine. Ci sono delle cose che io non capisco. Allora, molto semplicemente. Debito pubblico che aumenta, servizi ai cittadini che vengono ridotti o tagliati, la tassazione aumenta, anzi si parla di introdurre comunque una serie di strumenti per fare in modo di controllare che tutti i cittadini paghino le tasse, le paghino fino all'ultimo cittadino. C'è qualcosa in tutto questo che non capisco. Come mai il debito pubblico aumenta? Attenzione, ci priviamo, cioè svendiamo patrimonio pubblico, privatizziamo con la motivazione che il pubblico in realtà non è efficiente, è costoso per lo Stato, troppo costoso, invece il privato è il meglio che ci possa essere. Non capisco tutte queste cose. Mi aiutate a capire un po' questi concetti così elementari? È come se io in una famiglia spendo sempre meno. spendo sempre meno, mi aumentano le entrate, ma sono perennemente in debito. E il debito aumenta, è qualcosa che non riesco a capire. Allora, tutti i meccanismi di debito producono alla lunga insostenibilità. Questo è un punto fondamentale. Nel breve periodo o medio periodo, invece, possiamo ipotizzare dei parametri di sostenibilità. Prima Nando stava mettendo il dito sul punto più importante. Il problema è il peso del debito, cioè il flusso degli interessi sulla spesa pubblica, ovvero sul PIL. Allora, finché il tasso di interesse, quindi, come spiegava prima Nando, è in termini reali zero o negativo, vuol dire che il PIL nominale cresce sempre in modo di garantire una riduzione del debito. Se ciò non accade, vuol dire che il tasso di interesse sul debito è troppo elevato. Perché il tasso di interesse sul debito è troppo elevato? Perché si prendono decisioni arbitrarie. Nel caso italiano, per esempio, è sicuramente andata così. Perché il rendimento dei titoli italiani potrebbe essere più basso, visto che, tra l'altro, non è un caso se le ultime aste hanno avuto una domanda di una volta e mezzo, una volta e tre, addirittura due volte quello che era l'offerta. Ovviamente, se il PIL nominale cresce, ma il PIL reale diminuisce o è stazionario, è altresì che il sistema non va bene. Perché in queste condizioni crescerà la spesa pubblica perché aumenteranno i disoccupati, aumenterà la domanda di prestazioni sociali e quindi bisognerà scegliere fra produrre queste risorse direttamente, cioè ripristinare la sovranità monetaria, oppure emettere titoli. Ma in queste condizioni si tende a emettere titoli a tassi crescenti di interesse e allora si peggiora la situazione, cioè quello che lei stava appunto descrivendo. Adesso avremmo una via di uscita che è appunto l'emissione di titoli a un tasso di interesse inferiore a quello dell'inflazione e ovviamente superiore a quelli di offerta della BCE. Questa è una via di mezzo tra la sovranità monetaria e il suicidio che è invece la strada che stiamo ancora percorrendo perché offriamo titoli di Stato a tassi di interesse insostenibili. In modo ingiustificato, questo è il problema. In breve quali sono le sue soluzioni? Le soluzioni. Allora, le soluzioni sono fondamentalmente due. O introduciamo la banca pubblica anche in Italia, si può prendere il Monte dei Paschi di Siena che è destinato a questa fine visto i tre monti bond, eccetera, che prevedono appunto il passaggio di proprietà al tesoro e quindi si metteremo in una situazione di parità come dicevo prima con la Germania. Questa banca pubblica prende mezzi monetari allo 0,75 e poi compra quello che manca nell'asta, ovvero interviene nell'asta spingendo verso il basso il tasso di interesse o intervenendo in modo di influire sul prezzo di vendita che è la stessa cosa fondamentalmente. La seconda possibilità è comunque di emettere titoli a breve termine e a basso tasso di interesse acquistabili anche con titoli a lungo termine e ad alto tasso di interesse. Come dire, se il risparmiatore che aveva acquistato titoli a dieci anni si trova nella necessità o ha la volontà perché è stato terrorizzato dalle agenzie di rating o qualunque altra ragione di liquidizzare subito il titolo, gli offriamo questa opportunità. Noi risparmiamo sull'interesse, lui riacquista la liquidità che è invece ciò che teme di perdere in caso di default, ovviamente, che non è un caso reale, lo ribadisco, ma i mercati sono irrazionali perché mentre il mercato nazionale può essere monitorato con un modello econometrico che prevede quanta gente vorrà rientrare anticipatamente in possesso della propria liquidità per ragioni razionali, cioè malattie, matrimoni, cambi della propria vita, eccetera, e siamo in grado di costruire un modello econometrico di previsione, invece per quanto riguarda i titoli posseduti dagli stranieri non possiamo fare questo modello perché è irrazionale e quindi dipende dai giudizi delle agenzie di rating e di altri operatori i quali hanno interesse a dare certi giudizi, quindi chiaramente è una equazione differenziale con derivate parziali di cui non siamo in grado di governare gli esiti. Quindi è stato un errore quello di vendere all'estero il titolo del debito pubblico. Il debito pubblico è una classica partita di giro che dovrebbe rimanere all'interno di una stessa comunità nazionale. Anche perché si è ricattato quello di vendere? Lo insegnano i tedeschi, lo insegnano i giapponesi, lo insegnano gli americani. Siamo solo noi che non si sa perché abbiamo dovuto fare delle cose sbagliate. Ma non si sa perché o invece si sa? L'altra possibilità è quello di rintrodurre la sovranità monetaria, cioè emettere tanta moneta quanta ne serve al sistema per fare investimenti. Allora si tratta di avere investimenti produttivi pubblici o privati che siano e finanziarli senza fare tanti giri e raggiri. Ma sono strade diverse e tutte percorribili. L'unica strada che non è percorribile è quella in cui ci siamo trovati in questi anni. Ci sarebbe anche un'altra possibilità, visto che questo problema non ce l'abbiamo solo noi, ma ce l'hanno tutti i paesi europei e ce l'hanno anche quasi tutti i paesi al di fuori dell'Europa, è quello del Banca Centrale come prestatore di ultime istanze. Basta modificare lo studio del BCE e consentire alla Banca Centrale Europea di prestare direttamente allo 0,75, ai vari tesoro, i soldi che servono. Punto e basta. Ecco, ma questo perché non viene fatto? Questa domanda è una domanda la cui risposta è molto difficile, nel senso che noi ci siamo censurati finora, perché teoricamente non ci sarebbe neanche bisogno di avere il debito pubblico. Teoricamente. Sì. Perché se vogliamo il debito pubblico è un modo abbastanza farraginoso, perché qual è la sostanza economica effettiva di un debito pubblico? Prendiamo un debito pubblico in qualsiasi paese, allora abbiamo dei titoli del debito pubblico che vengono messi da un paese qualsiasi, questi titoli del debito pubblico vengono solo in minima parte venduti a privati, quindi solamente in Italia era qualche mese fa il 13%, adesso ho letto del 10%, adesso non ho le statistiche alla mano, ma comunque più o meno siamo su queste statistiche basse. Cosa vuol dire quindi? Che su 100 titoli, uno è in proprietà di un privato, gli altri 90 sono nelle mani di istituzioni bancarie o finanziarie. Cosa vuol dire? Con che cosa paga una banca un BTP? Lo paga con moneta creditizia. La moneta creditizia non è come la moneta che nelle tasche dei privati che si comprano un BTP, quello lo tira fuori dal proprio conto corrente, compra un BTP e se lo mette nel conto titoli e non c'è più i soldi che aveva prima. Una banca viceversa utilizza un meccanismo abbastanza complesso che fa sotto il nome di riserva frazionaria, per cui in realtà quella moneta è virtuale, non esiste dal punto di vista fisico. È una moneta che viene creata su una base, basta rispettare una certa percentuale che cambia a seconda dei momenti storici, basta rispettare soltanto quella percentuale e si crea una moneta che è un multiplo, una moneta virtuale che è un multiplo di quella effettiva. Cosa vuol dire quindi? Vuol dire che in realtà il debito pubblico è quasi tutto moneta virtuale. Se noi addirittura complichiamo un pochettino la faccenda e immaginiamo che la banca che compra i buoni del tesoro, i bond, sia una banca pubblica, come era per esempio in Italia fino a grosso modo al 94, quando è cominciata la folle svendita delle nostre banche pubbliche a prezzi da magazzino, come diceva prima Galloni, Cosa succedeva? Succedeva che la banca che comprava i titoli era una banca pubblica, quindi Stato. Lo Stato vendeva i titoli del debito pubblico, riceveva moneta creditizia, risultato? Il debito pubblico diventava una partita di giro. Vediamo se ho capito Iopolo, da quello che ho capito io poi posso sbagliare, ma io uso un linguaggio molto terra terra e mi piace poi arrivare alla sostanza. La sostanza è attraverso questo meccanismo del debito pubblico, noi sottraiamo ricchezza all'intero popolo e per consegnarla nelle mani di poche persone o di poche istituzioni, cioè delle banche. E questo, quindi creiamo tutto un artificio anche concettuale, addirittura creiamo una disciplina che possiamo chiamare economia, finanza, costruita ad hoc per giustificare questo... Questa è una cosa un po' complicatuzza da capire, qua stiamo andando un po' su cose molto complicate, nel senso che sono sconvolgenti, perché l'idea della moneta che c'è in giro è una idea quasi idraulica, come un serbatoio dove c'è già soldi dentro. Però quello che hai detto prima è così, è così? Beh sì, purtroppo la questione vera è che, pensi una cosa, dal 1945 a oggi non si conosce un solo caso, che sia uno, in nessun punto sperduto dell'orbe terraqueo, dove un debito pubblico sia stato restituito almeno in parte, ok? E siccome parliamo di un debito pubblico fatto quasi tutto di moneta creditizia virtuale, possiamo dire tranquillamente che la massa monetaria in circolazione è gigantesca, ed è una massa virtuale. Questo farebbe entrare in una sorta di iper spazio dell'economia. Magari ne parleremo in seguito. Adesso sarebbe meglio tornare alla questione principale. Diamo per scontato che i soldi siano finiti, anche se stiamo già dicendo che non è così. E vediamo un pochettino quindi come si potrebbe usare la cosa. Abbiamo detto una cosa molto buona, abbiamo detto che basta che la BCE faccia la prestazione di ultima istanza, oppure che recuperiamo un minimo di sovranità monetaria e che paghiamo tasso di interesse pari o inferiori al tasso di interesse e il debito pubblico non è più un problema. Ecco, ma le varie proposte che sentiamo in questo periodo, l'agenda Monti, i programmi elettorali di PD, PDL, vanno in questa direzione oppure no? Per rispondere a questa ci vuole prima una cosa. Prima dobbiamo spiegare un pochettino quali sono gli effetti economici dell'agenda Monti. L'agenda Monti si basa su un presupposto fondamentale che, va detto subito, è radicalmente sbagliato. Cioè che in una situazione di crisi, per uscirne, si debba prima sanare la finanza pubblica e poi intervenire, non si sa come, per lo sviluppo. Questa cosa non funziona. Primo perché ridurre la spesa pubblica e migliorare le condizioni di bilancio in situazioni di crisi significa peggiorare la crisi, come infatti è avvenuto con l'agenda Monti. Da quando, praticamente, con la linea Monti, da quando fondamentalmente si è accelerato il processo di aumento delle tasse e riduzione della spesa, la situazione economica è peggiorata. Sono aumentati i disoccupati, sono diminuiti le occasioni di investimento, è sotto stress la competitività del Paese e quant'altro. Quindi questo è il punto cruciale. Poi le alternative sono due. Una è la linea americana, che è sostanzialmente condivisa anche da Mario Draghi, e cioè che sviluppo e risanamento dei conti pubblici debbano andare di pari passo, anche a prezzi sociali altissimi, ma senza dimenticare la questione fondamentale, che non può esserci nessuno sviluppo se non c'è qualcuno che fa gli investimenti. E qui si sbugiarda pure la linea americana e rimane in campo solo una possibile opzione, e cioè che la BCE, ovvero i singoli stati nazionali, se la BCE non la vuole fare, finanzino tutti quegli investimenti che sono necessari per la ripresa. Ora, siccome la BCE negli anni passati ha finanziato le banche per le loro esigenze di liquidità per oltre 3.000 miliardi di euro, è possibile che faccia altrettanto in proporzione al 10%, cioè bastano 3-400 miliardi di euro per avviare la ripresa di investimenti pubblici. Perché l'equivoco è che è vero che gli investimenti dei privati sono di più e più importanti, ma i privati investono se c'è prospettiva di profitto, se invece c'è crisi i privati non investono. Quindi anche se gli riduci le tasse, se riduci le tasse ai ricchi, come tentò Bush, non ottieni nulla perché poi quelle risorse non vanno in investimenti produttivi per la ripresa, vanno in investimenti finanziari. Quando invece fosse lo Stato ad investire per acciuffare la ripresa, una volta che poi si rimettesse in moto il meccanismo di investimento dei privati in prospettiva di profitti, allora si potrebbe intervenire per ridurre la spesa pubblica e riportare indietro i disavanzi. Quindi, vediamo se ho capito. In realtà, noi italiani stiamo facendo tantissimi sacrifici, vengono definiti così. Dannosi e inutili. Perfetto. Quindi in realtà facciamo sacrifici, ma che vanno a nostro danno. Assolutamente. Quindi peggioriamo la situazione. Assolutamente, la situazione è peggiorata. Se lei fosse un professore universitario e si presenta un signore, un suo studente, con una tesi che contenga le stesse misure o gli stessi interventi o gli stessi provvedimenti dell'agenda Monti, lei che cosa farebbe? Allora, se sono un professore universitario keynesiano che capisce qualcosa di economia, lo boccerebbe. E noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo avuto e ce l'abbiamo ancora a capo del governo. Com'è possibile? Perché stiamo dicendo che la sua visione dell'economia è errata, di quello stiamo parlando. C'è altra gente magari in buona fede, anche economisti in buona fede, che credono a queste cose? Oppure ci si crede per… No, diciamo che uno va sul libro paga e quindi alla fine, se noi consideriamo che fino a un certo punto, qualche decennio fa c'erano solo keynesiani, i liberisti, era qualche caso isolato, dopodiché cambia il vento, tutti sono diventati liberisti perché era facile passare da Keynes al liberismo diventando neo-keynesiani, cioè seguaci di Modigliani, gli hanno dato pure il premio Nobel, appunto Andreatta pure aveva fatto questa scelta perché quando era collaboratore, stretto collaboratore di Aldo Moro, propugnava un altro tipo di impostazione. E quindi c'è stata tutta questa ventata attraverso la cosiddetta economia marginale che ha portato il keynesismo verso il liberismo. I veri keynesiani, cioè i post-keynesiani, seguaci di Caldor, della Robinson, di caffè, eccetera, si sono trovati assolutamente in minoranza nelle università e nella pubblica. Quindi nella parola keynesiani ci può essere una varietà. Ma per fare un esempio, è come se diciamo cristiani. La stessa roba. Ci sono i cattolici, ci sono gli ortodossi, ci sono le sette, c'è di tutto e di più. Vorrei chiarire una questione un po' antipatica, che è questa. Non dobbiamo pensare che le idee nascano come Minerva dalla testa di Giove. Perché per partorire un'idea basta un genio o un pazzo. Ma perché ci siano milioni di uomini che vanno dietro a questa idea, anche avendola capito solo a spanne, occorre che quell'idea convenga qui e ora per come quelle persone sono inserite nei rapporti di produzione. Vuol dire che se mi conviene, mi piace. Se non mi conviene, non mi piace. È come il tifo sportivo alla coscienza di classe. Ha la stessa funzione. Se un terzino dell'Inter falcia l'attaccante del Milan fuori dall'aria, tutti e due cadono dentro l'aria, l'interista sarà assolutamente convinto che non è il rigore, il milanista che è il rigore. E senza l'arbitro non si possono fare le partite. Non c'è niente da fare. Perché noi siamo portati a sposare le idee che ci convengono. Allora qui adesso cerchiamo di capire a chi conviene il liberismo e a chi conviene il kinesismo. Bello. Giusto. Allora, se immaginiamo per un momento di essere ricchissimi, quindi di avere la nostra ricchezza soprattutto dalla rendita, mobiliare e immobiliare. Se immaginiamo di avere un patrimonio di 500 milioni, per esempio, no? E qual è il nostro interesse? Se io avessi 500 milioni, il mio interesse sarebbe uno, non pagare tasse. Quindi tasse zero. Secondo, cosa che mi converrebbe è la maggior remunerazione possibile del mio capitale. La terza cosa è un'inflazione zero o sotto zero o sotto zero. Poi vorrei nessun limite geografico o legale per poter andare in giro per il pianeta alla ricerca della maggiore occasione possibile di speculazione. Se tutto questo, per poterlo fare, devo creare o concausare come effetto collaterale una recessione che produce morte di centinaia di milioni di persone, licenziamenti, disoccupazioni, fallimenti e suicidi di imprenditori, non me ne farei niente. Ora, cosa succede? Succede che l'idea liberista, cosa dice? Frontiere valutari aperte, nessun vincolo finanziario, libertà assoluta per le banche di speculare, fare quello che gli pare, in borsa, finanze, eccetera, eccetera. Abbassare le tasse. Abbassare le tasse, soprattutto sui ricchi, e quindi che succede? Basta che passa il principio della deregulation, la deregulation è borsistica, valutaria e doganale ed è fatta, perché a quel punto non c'è modo di bloccare l'inflazione e le importazioni se non praticando una politica deflattiva, cioè tagliando la domanda interna. Tagliando la domanda interna comporta taglio dell'offerta, comporta licenziamenti, comporta diminuzione degli investimenti e quindi regressa tutta l'economia, ma l'1% della popolazione gode, è solo il restante 99% che soffre. A questo punto, se vi ricordate l'esempio del terzino dell'Inter con l'attaccante del Milan, capite benissimo la faccenda, perché la scienza non è neutra, ma la scienza è nient'altro che... ma la scienza economica soprattutto non è neutra, perché è il pensiero più funzionale che ci sia all'assetto dei rapporti economici esistenti. Cioè, è normale che la scienza sposi il punto di vista settoriale della sezione apicale del blocco sociale dominante. Cioè, voglio dire, è normale che gli economisti che vanno avanti sono quelli che sposano questi interessi e quelli che non li sposano non vanno avanti. Scusi Galloni, ma se io sono uno studente universitario e sono università e studi economia e commercio, a me che tipo di economia e finanza mi viene insegnato? Cioè, su che libri studio? Conosco veramente la teoria di Keynes? Conosco comunque... Mi faccio un'idea mia? Oppure sono incanalato a formarmi un pensiero... un pensiero diverso. Allora, facciamo due premesse. Allora, la prima è che non c'è mai stato un grande economista che fosse laureato in economia. Il motivo è molto semplice, perché via via che si cristallizza una teoria, poi gli eventi e l'evoluzione sono tali per cui cambiano molti, molti parametri. La seconda ragione è che questa materia è caratterizzata per una contraddizione allo stato insanabile fra microeconomia, dove bisogna minimizzare i costi, e la macroeconomia, dove bisogna massimizzare i valori. Piccolo particolare, appunto, è che i costi da minimizzare sono il lavoro, l'ambiente e la salute. E i valori da massimizzare sono il lavoro, l'ambiente e la salute. Quindi il campo di indagine di questa materia, per non dire scienza, è appunto il contrasto fra il livello micro e il livello macro. Mentre, per esempio, nella fisica, io so che quello che è vero nell'astrofisica è vero anche nella fisica submolecolare, e le leggi di cui si parla, che sia la gravità, che sia il bosone di Higgs, o quello che è, non variano. Invece, nella microeconomia, variano e come? E quello che consente di passare da un livello all'altro, ed è molto affine a quello che diceva prima Nando, è la consapevolezza, è il livello di consapevolezza. Perché, per esempio, i singoli imprenditori sanno che riducendo i salari aumentano i loro profitti, ma come classe non si rendono conto che se tutti operano nel senso di ridurre i salari, alla fine non ci sono più compratori, non ci sono più vendite, non ci sono più prospettive di profitto, e conseguentemente si riduce il valore dell'impresa. Io, nella mia esperienza, sia di docente, sia di studente, ho conosciuto professori che hanno insegnato cose condivisibili e professori che dicevano cose che non stavano né in cielo né in terra. Quindi lasciamo stare i professori, e le università in particolare, da questo punto di vista. Il punto di partenza è un altro, e allora mi consenta di ricordare quello che il maestro del mio maestro, che era Bresciani Turroni, si sentì dire appunto dal suo maestro, che era Maffeo Pantaleoni, e gli stava spiegando una teoria. E allora il maestro, cioè Maffeo Pantaleoni, era distratto, e l'allievo gli dice ma ti sto spiegando sta mia teoria fiscale, perché non mi ascolti? E lui lo guarda e gli fa vedi, di teorie economiche, ce ne possono essere tante quanto i San Pietrini di Roma, e batteva col suo bastoncino sopra i San Pietrini. Ma capire come funziona l'economia, quella è la cosa difficile. E purtroppo non è la laurea in economia che ci fa capire come funziona l'economia corrente. Questa è la sfida. E cosa ci vuole allora per capirle, Carloni? Ecco, ci vuole di essere portati per la materia. E questo dipende da tanti fattori. Uno può essere di non avere studiato cose sbagliate all'inizio, perché se uno inizia con le teorie marginali e con l'economia neoclassica, dubito che poi dopo riesca a capire i vari fenomeni. Io ho quotidianamente a che fare con giornalisti, operatori, personaggi del mondo dell'industria e della pubblica amministrazione e via dicendo, che sono laureati a pieni voti in economia. Però mi rendo conto che non riescono a capire come funzioni l'economia. E quindi c'è, un problema c'è. Un problema c'è. Per conto mio ho incontrato maestri come appunto Federico Caffè o lo stesso Paolo Leon che mi hanno invece insegnato delle cose un po' diverse. Questo passaggio di cui adesso ha parlato Nino è fondamentale. Il problema è di ragionare in termini micro o ragionare in termini macro. Se uno ragiona in termini micro, giustamente diceva lui, pensa di tagliare i salari, tagliare le spese sulla sicurezza, tagliare le spese sull'ecologia, tagliare tutto il tagliabile. Il problema è che se tagli dei costi che sono contemporaneamente anche dei redditi che vengono spesi per consumi sul mercato interno, tu stai segando il ramo su cui sei seduto. Ma questo lo capisci solo se ragioni in termini macro. Il paradosso quale sarebbe? Di un barista. Il paradosso di un barista sarebbe quello di riuscire a tagliare i salari dei propri dipendenti ma farlo solo lui. Mentre tutti gli altri padroni aumentassero gli stipendi dei loro dipendenti. In questo modo venderebbe più cappuccini, più brioche, più aperitivi e sarebbe felice avendo costi inferiori. Questo è assurdo. È assurdo. Allora, se uno ragioni in termini micro pensa sempre di tagliare i costi e perde la circolarità, non riesce a capire che il gatto si morde la coda, non riesce a capire che quello che è costo ma è contemporaneamente il reddito viene speso, poi non te lo trovi come domanda. E se la domanda cala, diminuiranno gli investimenti e l'occupazione e quindi anche il PIL. E il sistema tenderà a impandere, a chiudere su se stesso. Ma vediamo se ho capito. Quindi in realtà, per capire l'economia, io dovrei fare due cose. Avere una visione d'insieme e attenermi ai numeri. Potrei riuscire a capirci qualcosa di più? Sicuramente sì, ma più Ptolemeo studia e peggio è, più lei studia un'astronomia di tipo geocentrico e più è difficile avere la concezione copernicana. Cioè, capire che era il contrario, cioè che è invece la Terra che gira intorno al Sole. Questo è difficile da capire. Più uno studia in termini micro e più, va bene, infatti cosa vediamo? I sacrifici di Monti hanno questo vizio d'origine. Ma voglio dire, ci vuole così tanto a capire, per esempio, che i sacrifici di Monti hanno portato a un aumento del debito pubblico, a una diminuzione dell'occupazione, a un aumento dei fallimenti, a riduzione di servizi verso i cittadini. Voglio dire, se io mi lavo un po' da tutta una serie di incrostazioni che magari mi sono state messe in testa e vado all'essenziale, posso capirla? È come l'economia? Ma è ben quello il problema. Il problema è liberarsi di incrostazioni. Esattamente. Perché se io ho costruito 50 anni di carriera di economista liberista, cosa faccio a un certo punto? Cambio idea? Mi rimangio tutto quello che ho scritto, tutto quello che ho fatto, tutto ciò che mi dà ricchezza, onore? È difficilissimo questo, è complicato. Ma questo lo capisco perché c'è un bel libro di un tedesco, che si chiama Festinger, che parlava appunto di dissonanza cognitiva. Cioè io mi tengo lontano da tutte le conoscenze che potrebbero mettere in discussione le conoscenze che ho già acquisito e che rappresentano un po' la mia identità, anche il mio status sociale. È di questo che parliamo. Esatto, ma sì. Però c'è anche l'altro elemento che abbiamo visto prima. Uno è questo, ed è un problema, per esempio, di storia della scienza. Kun ha scritto delle cose meravigliose sull'argomento, ma un po' tutti, insomma, diciamo, anche il grande pubblico sa che la scienza ha questo problema, per cui ogni nuova teoria viene prima negata, poi minimizzata, ridicolizzata pure, e poi alla fine gli si dice e ma l'abbiamo sempre detto. Cioè, la cosa comica... Questo diceva Schopenhauer. Sì, sì, sì. Prima si riferiva a Thomas Kuhn. Perché guardi che questa è una intervista profetica, nel senso che quello che qui stiamo dicendo e ci sentiremmo dire no, ma cosa dicono quei due, è assurdo, pazzesco, eccetera, un domani tutti diranno che l'hanno sempre detto, che l'hanno sempre detto. Questa è la cosa comica. Perché l'economia funziona così, non funziona cosà. Allora, l'altra questione, non di filosofia della scienza, è quella che abbiamo detto prima. Il problema dell'interesse economico e sociale che è legato alla vittoria di una teoria o di un'altra. Il problema è che, dal punto di vista dell'1% più ricco della popolazione, servono le teorie liberiste. Non c'è niente da fare. Se poi il prezzo da pagare è la implosione progressiva del sistema, pazienza per il restante 99%. Il problema vero è, ma una persona che alla fin fine non è ricco sfondato, ma è soltanto benestante, è sufficiente questo per tradire la sua estrazione di origine e sposare il punto di vista dell'1% più ricco? Certe volte sì, e certe volte no. Queste sono le difficoltà che dobbiamo affrontare noi. Ma capire l'economia è abbastanza facile. Anche perché guardi, spiegare che 2 più 2 fa 4 è molto più facile che spiegare che 2 più 2 fa 5. Ecco perché l'economia è ostica e difficile. Perché è sballata, è infondata, è piena di cose che non quadrano, che non funzionano completamente. Ma l'economia è in sé. Ma guardi che è abbastanza sé. Ecco, prima io ho fatto una domanda abbastanza precisa. sennò siamo usciti fuori da campagne elettorali, elezioni, eccetera, eccetera. Adesso consultazione, anche se non mi piace, puoi contestualizzarla così troppo. Ma vediamo da parte di questi partiti tradizionali un qualche programma che quantomeno ci fa capire che possono prendere la strada giusta oppure parliamo sempre di strade che non conducono da nessuna parte se non a peggiorare la nostra situazione. Cioè, che tipo di agenda ci vorrebbe? Molto pratica, in pochi punti magari. Prima di tutto una cosa e poi una soluzione. Allora, dei partiti tradizionali nessuno ha cambiato rispetto ai programmi elettorali. Tranne il PD che, visto quello che era successo con i 5 Stelle, ha proposto il programma in 8 punti che è in completa contraddizione con quello che il PD stesso aveva chiesto di sottoscrivere ai suoi diciamo sostenitori in occasione delle primarie dove per partecipare alle primarie bisognava appunto accettare l'agenda Monti. Dopodiché poi Monti è entrato in campo, Berlusconi è entrato in campo, il Movimento 5 Stelle ha avuto un enorme successo e le cose sono cambiate. Ora, gli altri partiti diciamo così che ha definito tradizionali non hanno modificato le proprie posizioni diciamo pre-elettorali mentre c'è il Movimento 5 Stelle che è in crescita ma che ancora non ha espresso un programma completo e compiuto. Però qualche cosa la stiamo cominciando a dire. Ora, io credo che un programma economico debba fondamentalmente basarsi su alcune cose fondamentali. La prima è il ripristino della netta separazione tra i soggetti che fanno attività speculative sui mercati finanziari internazionali e le banche che devono esclusivamente assicurare il credito all'economia a condizioni vantaggiose per l'economia che sono questo è il punto anche vantaggiose per le banche perché le banche a volte credono di guadagnare di più dagli investimenti speculativi finanziari non è assolutamente vero la banca guadagna molto di più per quelli che sono i meccanismi del credito da prestare denaro a basso tasso di interesse ad operatori meritevoli questo è il vero guadagno della banca e noi dobbiamo ripristinare questa situazione ritornando alla netta separazione fra i soggetti come c'era prima del 1990 e via dicendo la seconda cosa è che dobbiamo sia restituire reddito alla gente in modo che vada a comprare e via dicendo sia ripristinare la sovranità monetaria anche e soprattutto attraverso buoni investimenti pubblici questi ultimi possono essere finanziati o in euro con la BCE che compie questo ulteriore passo oppure si ritorna alle monete nazionali nel frattempo se l'Inps o lo Stato garantissero dei buoni acquisto da dare agli occupati poveri o ai disoccupati o ai pensionati o un po' a tutti loro e che poi venissero accettati in pagamento delle tasse noi avremmo una moneta di fatto che avrebbe due caratteristiche circolazione nazionale e quindi dall'altro lato quindi compatibile con l'esistenza dell'euro senza cambiare niente e quindi dall'altro lato dovrebbe essere rivolta soprattutto all'acquisto di beni e servizi nazionali questo ci aiuterebbe moltissimo e in pochi mesi rimetterebbe in movimento l'economia l'economia italiana la terza cosa è una profonda riforma della pubblica amministrazione nel senso che lo Stato deve posizionarsi non come adesso fra la legalità e l'irregolarità creando di fatto un'alleanza e una commissione fra quest'ultima e l'illegalità ma dovrebbe piazzarsi fra l'irregolarità che dovrebbe trattare in modo amichevole risolvendo i problemi cioè tutto il contrario di quello che fanno Equitalia e gli altri e dall'altra parte l'illegalità che dovrebbe colpire con maggior con maggior con maggior rigore la quarta cosa è accettare tutte quelle tecnologie nuove ed estremamente economiche che oggi l'umanità ha a disposizione nel campo dell'energia del trattamento dei rifiuti del trasporto che cambierebbero completamente la nostra vita in meglio ma che andrebbero questo è il punto a modificare gli equilibri geopolitici sia internazionali sia locali e questo ovviamente lo deve affrontare la politica e poi direi una sesta cosa molto importante che c'era appunto nel movimento trovato almeno nel Lazio nel movimento 5 Stelle è quello di dare priorità alla sanità preventiva cioè rendiamo più sana la popolazione oggi in modo che domani l'esborso finanziario pubblico sia inferiore noi possiamo anticipare quel risparmio trasformarlo in titoli che possiamo utilizzare per finanziare altre cose posso chiedere se precisa un po' meglio magari un po' meglio un discorso che faceva prima sulle emissioni di buoni mi dice qualcosa in più perché credo che sia estremamente importante sarebbe l'equivalente di una moneta certo per esempio l'Inps può mettere nelle pensioni assicurare ai lavoratori occupati e ai disoccupati che hanno a che fare con l'Inps stesso l'equivalente di 200 euro al mese per 6-7 mesi secondo i miei calcoli che possono essere utilizzati dagli stessi facilmente presso negozi esercizi e via dicendo questi ultimi potrebbero utilizzare questi buoni che ricevono in pagamento delle loro merci e dei loro servizi per pagare le tasse ci sarebbe solo un problema di contabilità delle entrate ovviamente ma che al massimo potrebbe produrre un aumento del disavanzo quindi chiaramente questo dovrebbe un aumento del disavanzo a fronte dell'adempimento del dovere di pagare le tasse da parte di questi esercenti quindi siccome l'Italia fra l'altro è particolarmente virtuosa nel rispetto del parametro di Maastricht non ci sarebbero problemi nell'immediato e poi ripeto io credo che basterebbero 6-7 mesi di questo tipo di politica per ottenere una ripresa e quindi questi buoni tenderebbero a ritornare allo Stato e potrebbero scomparire dal circuito quindi quando si riavviasse la ripresa potrebbero essere completamente eliminati questa sua proposta lei l'ha sottoposta anche a qualcuno l'ha fatta ne ho parlato in alcune riunioni anche dove c'erano questi ragazzi di Movimento 5 Stelle che ne hanno ne hanno preso nota poi faccio video come questi e scrivo lì quindi a parte il Movimento 5 Stelle non lo so magari qualche altro partito politico qualche parlamentare qualche ministro insomma qualcuno sa che io ho queste idee non sono il solo adesso stanno cominciando a circolare il problema è la volontà politica di cambiare le cose in meglio perché al massimo io ho visto la volontà politica di cambiare le cose in peggio oppure di lasciare tutto come sta qui si tratta di vedere come si deve cambiare in meglio facendo pressione è l'unica possibilità che abbiamo questo discorso qui è importantissimo bellissimo è praticamente una sorta di moneta complementare io obiettivamente non ci avevo mai pensato ecco ma pensate che c'è stato anche qualche modo una moneta complementare certo che voleva dire ma ingolosendosi si potrebbero addirittura usare proprio i BTP per questo cioè si potrebbe proprio fare una seconda circolazione fatta di BTP quindi questi buoni di cui si stava parlando potrebbero essere parte già del nostro debito urio che circolassero in Italia come moneta aggiuntiva rispetto all'euro con valore soltanto in territorio nazionale è utilizzabile per pagare le tasse ma pagare proprio per tutto però sarebbe utilizzabile a questo punto dai cittadini avremo una doppia circolazione questo per non rompere con l'Europa ma ricordiamoci che noi non vogliamo rompere con l'Europa qua non stiamo senza la troica va benissimo come un'Italia senza monti quello che non va bene è soltanto una Europa liberista e un'Italia liberista non è quindi il conflitto tra Italia e Europa perché non è che sono a pacchetto a prendere e lasciare o un'Europa liberista o un'Italia non liberista si illude chi pensa questo perché le combinazioni sono quattro quello che vogliamo noi è sostanzialmente un'Europa o un'Italia post-kenesiana qua c'è una questione fondamentale da risolvere l'abbiamo cantonata più volte ma c'è un problema serio ed è quello dei rapporti internazionali nel senso che siamo tutti abituati a godere di questa libertà di circolazione ma il problema è che con la totale deregulation valutare e doganale abbiamo il problema di confrontarci con le importazioni cosa succede? che il paese che sviluppa la propria domanda interna ha un prezzo da pagare che consiste nell'aumento delle importazioni quindi non è qui questione di scegliere l'euro di uscire dall'euro o restare nell'euro il problema è che un'Europa che attuasse queste riforme di cui stiamo parlando sarebbe fantastica e sarebbe anche meglio di un'Italia costretta a farlo soltanto in Italia perché quello che stiamo dicendo non è che conviene all'Italia e non convenga alla Spagna alla Francia al Portogallo mi spiego quello che stiamo dicendo conviene a quasi tutti i popoli europei e all'interno della Germania a una parte perché c'è il problema non bisogna confondere guardate che parlare di Italia non è perfettamente corretto dal punto di vista sociologico perché dobbiamo distinguere l'1% di italiani del restante 99 prendiamo il caso greco per capirlo meglio il 40% della ricchezza greca è nelle mani di mille greci questi mille greci hanno il doppio passaporto non pagano le tasse in Grecia e spegulano contro il debito pubblico greco sono greci anche questi? allora mi renderete conto che non è facile parlare in termini così puramente l'Europa invece noi siamo come dire la Germania vuole questo ma cosa c'entra? gli operai tedeschi hanno subito un aumento del tasso di sfruttamento bestiale in questi anni allora se noi parliamo dei redditieri e della finanza tedesca facciamo un discorso se parliamo dei lavoratori tedeschi dobbiamo farne un altro perché i lavoratori tedeschi hanno tutto il vantaggio all'utilizzo di strategie di tipo post-chinesiano e poi c'è però di regolare i flussi interni all'interno della UE ecco questo è molto importante poi dobbiamo non dobbiamo dimenticare che gli operai tedeschi sono soggetti ad una propaganda contro gli italiani contro i greci contro gli spagnoli infatti il famoso termine pigs meali per cui loro pensano che mentre sono soggetti a dei sacrifici enormi gli altri invece vivono al di sopra delle loro possibilità invece bisogna trovare l'accordo fra i popoli per una politica economica e monetaria sostenibile e che sia diverso rispetto alle politiche della troica e dei liberisti questa è la sfida europea questo è quello che va come dire portato avanti anche a livello delle elezioni europee di tutta l'Europa del prossimo anno perché è su questo che si giocherà che si giocherà la partita ammesso che riusciamo a arrivare fino a quella data io volevo anche aggiungere una cosa che prima non abbiamo sottolineato ed era dove l'errore dell'agenda Monti perché dobbiamo capire una cosa quando uno pensa di fare sacrifici per diminuire il debito abbiamo visto che non si accorge che facendo questo fa aumentare il fa bisogno fiscale nel senso che ogni cento di sacrifici popolari comporta come minimo un cento di contrazione del PIL in realtà non è così la contrazione del PIL è superiore a cento è come minimo almeno circa 200 ora il problema è che la UE ha commissionato a un centro studi un paio di anni fa un'analisi dei parametri sui sacrifici cioè praticamente in sostanza i coefficienti di recessione ha chiesto praticamente a seconda di ogni intervento fiscale quale sarebbe stato il parametro il coefficiente di recessione relativo ora mediamente questo centro studi ha dato risposta intorno al 50% cosa vuol dire questo? il ragionamento molto terra terra aritmetico era il seguente beh allora se io faccio sacrifici per 100 e mi cala il PIL di 50 beh tutto sommato è un sacrificio fattibile perché il rapporto debito PIL migliora questo era il discorso alla base molto terra terra tra l'altro questo discorso terra terra non è neanche di dominio pubblico perché è proprio pazzescamente per addetti ai lavori incredibile seppure è un discorso elementare facilmente spiegabile però vi renderete conto della impopolarità della idea di fare apposta dei una contrazione recessiva per migliorare il rapporto debito PIL ma il ragionamento era questo beh se noi riusciamo in questo modo a tranquillizzare i mercati cosa succede magari lo spread cala pensate che per uno che non pensa di fare il collocamento di cui parlavamo prima questa idea qui sembra positiva allora facciamo ogni punto percentuale io risparmio 20 miliardi su 2000 miliardi di debito pubblico quindi tutto sommato può convenire se io ce la faccio a fare dei sacrifici soprattutto propagandistici che colpiscano l'opinione pubblica mondiale le agenzie di rating eccetera magari con un sacrificio di 30 miliardi che cosa combino io combino in sostanza che con rimborsi faccio 30 miliardi di rimborsi mi cala magari il PIL di 15 miliardi beh però mi cala di 20 miliardi per ogni punto percentuale il costo dell'interesse alla fine se può fare si direbbe a Roma no? questo ragionamento purtroppo è assolutamente sbagliato aritmeticamente perché parte dall'idea che il coefficiente di moltiplicazione keynesiano praticamente sia pari a 1 cioè in sostanza non esista moltiplicazione quando poi succede invece che la recessione avanza uno cosa dovrebbe dire forse abbiamo sbagliato qualcosa no? forse è sbagliato questo coefficiente forse quel centro studi ha sbagliato perché? perché è un asino dal punto di vista keynesiano questo è il problema braccia sottratte all'agricoltura perché? perché se il coefficiente non è del 50% ma è del 200% allora si spiega tutto quello che è successo perché ogni sacrificio di 100 che cosa produce? una recessione di 200 poiché circa il 50% del PIL va in tasse aumenta il fabbisogno irradiale di 100 risultato se è indebitato come prima il 100 che rimborsi te lo devi comunque accendere nuovamente perché ti è calato sono entrate le entrate tributarie e contemporaneamente il PIL ti è calato di 200 quindi cosa ha combinato giù fa? ha peggiorato gli è stato contestato specificatamente dal presidente di Standard & Poor e dal presidente di Moody's a Monti proprio agli inizi nel gennaio del 2012 ha detto guarda tu mi chiedi il rating sui BTP a 10 anni e mi fai dei sacrifici che sono recessivi se mi fai dei sacrifici recessivi è palese che il PIL peggiorerà quindi le capacità di rimborso dell'Italia peggiorano nel tempo dunque ti devo togliere qualche A ti devo dare un rating peggiore sapete cosa ha risposto Monti a queste obiezioni? ha detto beh però qualcosa nell'immediato andava pur fatto capito? beh Monti comunque è stato appoggiato un po' da tutti parte lega di Pietro per altre ragioni quindi voglio dire ma qua siamo di fronte all'incompetenza siamo di fronte a che cosa? perché da quello che state dicendo mi sembra abbastanza chiaro quindi abbiamo una classe politica che è incompetente o che cavolo cioè non riesco a capirlo capito? io ricordo mi pongo delle domande molto semplici allora l'abbiamo già detto prima che cosa dovrebbe accadere? allora l'abbiamo già detto prima affinché si abbia una classe politica consapevole preparata che adotta dei provvedimenti giusti che cosa dobbiamo fare? prima cosa che cosa pensa un italiano di cultura medio alta dell'economia pensa che lui non è un tecnico e sicuramente gli esperti sapranno quello che dicono in più studia l'economia per poco che riesce a fare non ci capisce granché e si fida allora la disgrazia nostra è che ci stiamo fidando come a scuola copiando dal compagnetto che sbaglia prende quattro lui e prendiamo quattro pure noi chiaro cosa succede? ma uno si fida perché lui è convinto che lui la matematica magari non la conosce allora riesce a copiare dal compagnetto ma se il compagnetto sbaglia pure lui poi sbagli pure tu allora il problema è che noi abbiamo un problema internazionale di una cultura liberista assolutamente sbomballata senza il minimo fondamento scientifico purtroppo è così abbiamo parlato di una precedente tu è intervista mi pare la cosa è difficile perché come fa adesso anche in questo momento uno che si è sintonizzato e sente queste parole dice ma com'è possibile allora che gli esperti non hanno capito nulla hanno preso un abbaglio pazzesco un domani dovranno far fatica a dire che invece l'avevano sempre detto perché se no rischiano il linciaggio perché non sono errori da niente far fare sacrifici popolari è la quintessenza dell'idiozia casomai gli unici che non devono fare sacrifici sono proprio i meno abbienti perché se tu fai fare sacrifici esclusivamente all'1% della popolazione non hai effetti recessivi capito? quella è la cosa pazzesca però se hai le frontiere valutari aperte i capitali fuggono la speculazione internazionale aggredisce la borsa hai anche una speculazione valutaria e non esci più perché dicevo dall'inizio che l'errore massimo è quello di optare per la deregulation perché a quel punto hai le mani legate è lì il punto centrale non ci possiamo permettere un'Europa dei popoli se non optiamo per un regime vincolistico ai confini dell'Europa di tipo borsistico e valutario la domanda che facevo prima è appunto questa a parte tecnicamente come ne usciamo ma come riusciamo a fare pressione che cosa possiamo fare per esercitare questa pressione sui politici per esempio in questo momento sono in corso due fenomeni secondo me uno è il Movimento 5 Stelle l'altro è la trasformazione del PD e di altre forze diciamo così della sinistra questi due componenti se portate ad un confronto sulle grandi tematiche della politica economica che abbia un capo e una coda può consentire di raggiungere almeno a livello programmatico dei punti fondamentali io credo che oggi con Nando li abbiamo li abbiamo toccati bisognerà ritornarci su sullo specifico di ciascuno però se parliamo di banche che fanno il credito pubblica amministrazione amica dei cittadini potere d'acquisto che aumenta per i lavoratori per i cittadini e che comporta ricadute positive sul piano occupazionale introduzione di tecnologie che facciano crescere la competitività di questo paese che è comunque un paese industriale nonostante il tentativo di mandarlo per aria e tutto ciò che consente di prevenire l'aumento patologico della spesa pubblica e invece di consentire l'aumento produttivo di essa questo fa parte di una di una road map che dovrebbe riportarci verso terreni praticabili invece che verso le paludi del liberismo e dei suoi alleati lei che non è stato mai invitato a qualche convegno del PD per esempio l'hanno mai invitata per un confronto ma io di fatto ho una radice diciamo democristiana e ho una radice di sinistra parecchio di sinistra e sono rimasto deluso non solo dal tradimento e dal suicidio della democrazia cristiana che è stato male per il paese ma anche dallo snaturamento di quello che in genere chiamavamo la sinistra la quale abbindolata dal terrore dell'inflazione non capendo che il keynesismo andava rivisitato ma non abbandonato ha finito per confluire in una in una bolgia liberista che proclamava la inutilità di politiche industriali di politiche del lavoro di politiche di sviluppo economico perché tanto il mercato avrebbe come dire gestito e organizzato i fattori al meglio tutto ciò è un pio desiderio ed è una posizione che sicuramente i fatti hanno smentito purtroppo abbiamo dovuto aspettare 30 anni di devastazioni per avere la certezza di questo di questo fallimento potevamo arrivarci prima senza tante lacrime e sangue inutili dannosi e dolorosi senza vendere un patrimonio adesso mi auguro che rapidamente la classe politica arrivi alla conclusione che dovrebbe essere convocato qualcosa che corrisponde agli stati generali dell'economia allo scopo di ribadire 4, 5, 6 cose da fare sia nell'immediato anche per resistere alle eventuali pressioni della speculazione internazionale e sterilizzare questa prospettiva e avviarsi verso una situazione di recupero dello sviluppo però vorrei dire una cosa dare una speranza io ricordo una conferenza di battito alla quale partecipato Fassina per il PD nel quale ha sinceramente a mio avviso molto sinceramente mostrato la sua estrema difficoltà e tristezza e dispiacere per non riuscire a trovare la quadra per uscire dalla trappola liberista ora io perché ognuno può fare i suoi ragionamenti non credeci io ho avuto la sensazione davvero della sua sincerità durante quel dialogo e praticamente significa che il il think tank cioè il serbatoio di teste su cui attinge il partito democratico purtroppo sconta questa sudditanza psicoculturale nei confronti dell'idea liberista ma è un qualcosa che si sta sfilacciando sempre di più e le ultime elezioni hanno dato un bello scrollone come giustamente aveva detto prima Nino si sarebbe sognato il PD di dire viva l'agenda cioè abbasso l'agenda mondi facciamo il salve di cittadinanza è una manovra chinesiana questa qui cosa vuol dire praticamente vuol dire che è entrato nell'ottica di fare interventi tipo chinesiano e guardate che non siamo soli in questo perché anche Stiglitz Fitussi Krugman dicono così ma c'è di peggio abbiamo sentito fare affermazioni di questo tipo anche a personaggi importanti della comunità europea perché queste perplessità vaggiano anche all'interno del mondo imprenditoriale del mondo super amministrativo perché si rendono conto che non quadra che queste teorie liberiste ci stanno portando a catafascio tanto più che poi parlare di liberismo bisogna farsi gli sciacqui con l'acido muriatico prima di pronunciare questa parola perché gli accordi di cartello sono la più radicale caricaturale delle negazioni pensabili del liberismo quindi tu non puoi parlare di liberismo e poi invece volere gli accordi di cartello perché Vasilea 3 è un accordo di cartello non è una legge cioè l'accordo per cui poi abbiamo gli spread privati perché una banca europea che prende gli euro allo 0,75 e poi li presta alle famiglie e alle imprese al 6 all'8% c'è qualcosa che non torna noi parliamo di spread privati ma nessuno di spread pubblici ma nessuno sta discutendo gli spread privati e il discorso è analogo anche lì quando per esempio noi spendiamo qualcosa come 200 e passa miliardi l'anno tra interessi sul debito pubblico e interessi privati c'è qualcosa che non torna perché tutti questi soldi sono sottratti alla domanda per consumi e agli investimenti cioè alla ricchezza reale e vanno a finire nella parte che tesaurizza ed è la quintessenza del suicidio intellettuale morale spirituale perché no estetico economico sociale e storico vorrei solo aggiungere qual è il punto fondamentale limite che accomuna in fondo il movimento a 5 stelle nelle sue espressioni ufficiali che leggiamo dai giornali e le posizioni del PD e della sinistra in generale cioè la condivisione con i liberisti dell'idea che le risorse monetarie e finanziarie che sarebbero necessarie per lo sviluppo o per un modello più giusto più equilibrato anche dal punto di vista sociale siano scarse questo è il problema che Fassina o anche Vendola non sono in grado di risolvere se non più o meno sulla falsariga di quello che hanno detto ma non troppo fatto sia Obama sia Hollande con vari limiti è quello di togliere i ricchi per dare ai poveri che non funziona come il suo simmetrico di togliere ai poveri come è successo con l'iberismo per dare ai ricchi in realtà il punto fondamentale dal quale partire se no è inutile che cerchiamo di cambiare l'economia accettiamo tutto come è è che le risorse monetarie e finanziarie necessarie per lo sviluppo non sono né scarse né illimitate come dicono altre teorie esse sono dopo il 1971 esattamente quelle che servono per realizzare gli investimenti l'importante è che i progetti di investimento siano sostenibili dal punto di vista finanziario allora le risorse ci sono come ha dimostrato la politica della BCE che ne ha tirate fuori per migliaia di miliardi a favore delle banche purtroppo non erano questo è il punto per buoni investimenti ma solo per sostenere le banche senza neanche chiedere loro la minima contropartita di smetterla per la semplicissima ragione che poi sono le banche private che fanno le speculazioni finanziarie che controllano la BCE quindi questi sono tutti i nodi che bisogna affrontare nell'immediato futuro ma il passo culturale fondamentale è quello di avere la netta percezione o convincimento che le risorse monetarie e finanziarie sono scarse solo per ragioni artificiose annesse e connesse con quello che diceva prima Nando cioè la dominazione di minoranze sulle maggioranze perché nel momento in cui si scoprisse che le risorse monetarie e finanziarie non sono illimitate certo ma non sono neanche scarse ma sono esattamente quelle che servono è chiaro che tutto il mondo andrebbe a cambiare culturalmente ed economicamente è chiaro che